Per l'industria primiamo l'ingegner Giancarlo Magistretti, nato il 22 luglio 1882 a Milano, dove si laureò presso il Politecnico nel 1907, disse e lavorò a Milano fino alla fine degli anni 20 per trasferirsi a Colleferro, dove venne chiamato dal senatore Leopoldo Parodi Nelfino come direttore tecnico della BPD per il settore patrimoniale per la progettazione e direzione lavori del nascente nuovo villaggio, oggi noto con il nome di Villaggio Vecchio, è patrimonio storico e importante per la nostra città. L'ingegnere curò la progettazione di tutte le opere di funzione pubblica come la scuola, l'ospedale Omni, la casa del popolo e per talune opere ricordiamo la stretta collaborazione con l'ingegner Martinelli. Morì a Colleferro il 9 maggio 1977, con il premio di oggi vogliamo ricordare il suo contributo professionale, sociale e politico alla crescita della nostra città. Ritira il premio il signore Emilio Magistretti. Premio il sindaco. Applausi. 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 Come dire le parole? Emozione. Applausi. Grazie.